Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle Oka Speed Goat 5, la scarpa con cui ho corso la Ultra Trail Chianti Castle dal 102 km la scarpa che va a sostituire le Speed Goat 4, ovvero probabilmente le scarpe più famose e più utilizzate nel mondo del trail e in questa recensione vogliamo vedere se le Speed Goat 5 saranno delle eredi sostituite delle Speed Goat 4 come vi dicevo nell'introduzione vi spiego un attimo come ho provato queste scarpe allora ci ho corso la Ultra Trail Chianti Castle, una corsa da 102 km e 4200 m di dislivello ma non solo, ho avuto modo di provarle anche nei territori vicino a casa mia, su roccia e via dicendo scarpe che ho utilizzato per un totale di poco più di 200 km scarpe che mi sono piaciute, che vi racconto, ma inizio soprattutto a descrivervele partendo dai dati forniti dalla casa abbiamo una scarpa che nel numero 42 pesa 295 grammi, nel mio 48, poi vi spiego perché ho preso il 48, pesa più o meno sui 360 all'incirca una scarpa che come vedremo ha tutta una nuova sistema di intersuola con un tutto nuovo materiale ma soprattutto un drop di 4 mm, quindi un drop anche abbastanza basso pur essendo pensato per delle gare di Ultra e appunto magari iniziamo a descrivervela dal suola qui troviamo la solita classica suola Vibram Mega Grip una certezza, una conferma, va bene, su qualsiasi tipo di terreno che va dalla strada bianca alla roccia, al bagnato il Vibram Mega Grip è veramente una certezza e in questo caso Oka ha deciso anche di aggiungere dei piccoli inserti al lato del nostro tassello per aumentarne il grip e questo si sente soprattutto su roccia devo dire la verità una cosa che però non mi è piaciuta di questa suola non è il grip ma è la costruzione mi spiego meglio come potete vedere qua sul tallone troviamo una parte dove non c'è suola non c'è battistrada quello che si vede è l'intersuola questa cosa qua non mi è mai piaciuta sulle scarpe da trail perché ho avuto esperienze anche con le Oka Challenger ATR6 che ho praticamente finito questa zona qua essendo intersuola, essendo molto più morbido va a consumarsi molto più velocemente noi rischiamo di arrivare a fare magari 600 km con una scarpa che la scarpa gli regge benissimo ha ancora ammortizzazione, ha ancora battistrada ma ad avere questo pezzo di intersuola che è completamente distrutto magari anche che si formano dei buchi se andiamo a prendere rocce o detriti particolari e siamo costretti a cambiarle proprio perché qua c'è intersuola e oltre a ciò ho notato che in questo punto non essendoci appunto battistrada si va ad accumulare particolare fango non crea lo zoccolo per intenderci ma siamo sempre al limite è un punto dove il fango non si va a pulire proprio perché manca tutto il battistrada continuo nella spiegazione andando ad analizzare l'intersuola come dicevamo in apertura del video abbiamo un drop di 4 mm una forma abbastanza rocker soprattutto sulla davanti un'intersuola che è cambiato non è più a doppia densità, è a singola densità è un'intersuola che rende la scarpa molto più leggera rispetto ai modelli precedenti che come cushioning siamo più a livello delle Spigot Evo piuttosto delle Spigot 4 si possono utilizzare davvero su gare lunghissime io nella mia 100 km sono arrivato alla fine dopo tantissime ore di gara senza avere dolori senza avere affaticamenti con le scarpe che ammortizzavano ancora benissimo è un'intersuola che poi la cosa che veramente mi è piaciuta di più è la reattività che conferisce alla scarpa questa scarpa la si può utilizzare sia a ritmi molto molto sostenuti anche attorno ai 3,30, 4 km che camminandoci e soprattutto davvero restituisce un ottimo feeling sembra quasi quando andiamo su terreno particolarmente duro come può essere una strada bianca, un single track di avere quasi una scarpa da strada quindi l'intersuola che mi è piaciuto tanto è che è una delle rivoluzioni di questa scarpa la seconda rivoluzione più importante è la tomaia la tomaia cambia completamente rispetto alla Speed Goat 4 nella Speed Goat 4 avevamo una tomaia con degli inserti in plastica abbastanza dura qui invece la tomaia è completamente in tessuto in mesh, riciclato quindi anche bene un occhio all'ambiente è una tomaia molto molto traspirante davvero tanto io anche nelle giornate più calde non ci ho mai sudato e cosa che mi fa sempre capire è che la scarpa è molto traspirante che l'ho bagnata ci sono passato all'interno di un ruscello e si è asciugata in 448 veramente super veloce è una tomaia che contiene molto bene il piede forse anche fin troppo nel senso che è molto stretta è una cosa che particolarmente non mi è piaciuta io nel 47 non ci sarei stato dico la verità perché sarebbe stata troppo stretta come scarpa però da questo punto di vista io vi consiglierei magari di andare sulla soluzione Wide se avete un piede neanche troppo largo però c'è il rischio che una normale scarpa che può essere il vostro numero solito sia un pochino troppo stretta e per fortuna appunto che esiste la versione Wide altrimenti dovreste fare come me che non potendo prendere la versione Wide perché non c'è il numero ho dovuto prendere un mezzo numero in più andare al 48 però in generale è un mesh che mi è piaciuto non ha nessun tipo di abrasione pur avendolo utilizzato per tanti chilometri e su terreni particolarmente sconnessi non penso che con questa scarpa avremo lo stesso problema che abbiamo avuto sulla 4 ovvero di Tomaya che si andava a strappare e via dicendo e altra cosa che troviamo cambiata è il contraforte tallonare come possiamo vedere il contraforte è molto più simile a una scarpa da strada piuttosto che a una scarpa da sterrato è una scarpa che dico la verità mi è piaciuta forse manca un pochino di sostegno laterale su terreni particolarmente sconnessi perché comunque hanno abbassato questa parte e sono andati ad alzare il contraforte tallonare sul tallone d'Achille però dico la verità questa cosa qua non dà fastidio non ha avuto problemi anche a lungo andare non mi ha dato nessun fastidio una cosa che però non mi piace ma veramente non mi piace e lo considero un grosso difetto del tallone è il fatto che entrano i detriti io nella mia gara da 100 km mi sono dovuto fermare due volte durante la corsa a togliere dei triti aggiungiamo la terza fine gara avrei comunque fatto gli ultimi 10 km con un cacchio di sassolino sotto che mi dava un fastidio che non potete immaginare ma non volevo fermarmi altra cosa che cambia ed è l'ultima la linguetta la linguetta è diversa è una linguetta molto sottile non è imbottita però svolgi bene il suo lavoro il piede rimane fermo non si sentono i lacci anche se li stringiamo forte e infine parlando della soletta questa è estraibile non mi ha dato nessun tipo di problema ma anche in discese particolarmente ripide il piede non tende a scivolare fatte bene poi naturalmente dipende anche che calzino utilizziamo però nessun problema da questo punto di vista in generale questa scarpa mi è piaciuta veramente tanto restituisce un ottimo feedback e può essere utilizzata come scarpa praticamente su qualsiasi tipo di terreno e su qualsiasi tipo di distanza anche se naturalmente predilige le ultra è un tipo di scarpa che va bene io ci ho corso appunto la Chianti Castle su strade bianche e lì è stata perfetta perché la sua reattività mi ha dato modo di correre davvero anche ad alte andature senza avere nessun tipo di problema il suo peso comunque esiguo perché vedremo poi che ci sono scarpe decisamente più pesanti e da modo di poter essere bella reattiva avere un bel numero di passi al minuto la cadenza molto alta e quindi è una scarpa davvero per persone che vogliono performance non si sente più tanto quell'affondare all'interno dell'intersuola classico delle Speed Goat proprio perché la scarpa è diventata molto più reattiva grazie a questo nuovo intersuola detto ciò in conclusione ve le consiglio assolutamente sì penso che questa sia davvero la scarpa perfetta per chiunque che vada dal principiante e va all'esperto chi sta facendo la sua prima ultramaratona a chi cerca la performance è una scarpa davvero che va bene per qualsiasi corridore però come vi dicevo io vi consiglio di andare a provarla in negozio per capire soprattutto la parte anteriore se prende la versione wide o mezzo numero in più in base a come un po' vi calza la tomaia detto ciò ragazzi nella speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questo video io vi ringrazio per averlo guardato e ci vediamo al prossimo ciao ciao